Sul nostro giornale web www.tutotoro.com potete vedere tutte le nostre dirette, i video e le foto fatte nella trasferta in Russia. Dopo la sconfitta di giovedì a San Mitroburgo, il Toro deve rimontare lo 0-2 per accedere ai quarti di finale di Europa League. Servirà l'aiuto del pubblico per compiere l'impresa contro lo Zenit. Lo Stadio Olimpico sarà tutto esaurito. Giovedì sera seguiremo in diretta dallo Stadio Olimpico Toro Zenit con foto, video e le interviste del dopo gara.